Cava Ferro prodotti siderurgici offre cortesia e professionalità. Vienici a trovare in via Cesaro Giovanni X, Cava dei Tirrelli. Ritorna il Top Player Juniors Campania. Dopo il primo trofeo Memorial Massimo Esca della bocciofila San Giovanni Airola che lo scorso 2 novembre in provincia di Benevento ha inaugurato l'edizione 2019-2020 della Kermess, sono ben due le tappe del circuito giovanile coordinato dal vicepresidente della Federbocce Campania, Doriana Rescigno, che durante le festività natalizie vedranno protagonisti nel salernitano talentuosi giocatori di bocce, specialità Raffa, provenienti da ogni angolo della regione. Nel dettaglio domani, sabato 21 dicembre, a partire dalle 14.30, circa 50 promettenti ragazzi appartenenti alle categorie Under-12, Under-15 e Under-18 parteciperanno al primo trofeo Luci dell'Irno, organizzato dalla bocciofila Enrico Millo di Baronissi. La terza tappa del Top Player Juniors Campania, che è nato allo scopo di promuovere l'attività giovanile e quest'anno è composto da nove appuntamenti, sarà invece il terzo torneo Juniors Buon 2020, manifestazione organizzata dalla società MCM di Angri, in programma il 2 gennaio, con inizio alle 14.30. Vogliamo che i nostri giovani si distinguano nelle gare nazionali elite che prenderanno il via a marzo, afferma il vicepresidente, nonché tutor giovanile della Federbocce Campania, Doriana Rescigno. Per questo abbiamo pensato di dedicare loro del tempo durante le vacanze di Natale per prepararli nel migliore dei modi.